Il nastro appunto che è 5 metri per le junior e 6 metri per le senior però per eseguire un movimento è logico che ci mette più tempo di una clavetta che è pochi centimetri per questo è quasi sempre un po' più basso degli altri e adesso è la volta di Giorgia Galli, nastro naturalmente San Giorgio 79 Desio No Brava Grazie a tutti Brava veramente, il nastro è molto difficile da mascherare gli eventuali errori, lei invece ha fatto un lancio un po' corto però è riuscito a recuperarlo per cui anche la difficoltà d'attrezzo che ha fatto di ripresa è valida perché è riuscito a recuperarlo, vedete anche qui ha visto che era un po' più indietro quindi si è allungata al massimo, invece delle volte la coda del nastro non deve essere per più di un metro adagiata al suolo perché se no fa come il nodo, inficia, qualsiasi movimento si stia eseguendo, sempre eccetto il rischio, il rischio è una cosa a parte. Guarda che bei dettagli sul body di questa ginnasta di Giorgia Galli, davvero raffinato, un body molto importante, insomma un bellissimo body di società. Certo, alta moda quasi, vero Isa? E che oltretutto è ottima la scelta perché è uno di quei costumi, scusate io li chiamo ancora costumi body perché le body difficulty non vorrei confonderle con le difficoltà del costume ma che calza pennello su tutte le tipologie della ginnastica ad esio che sono tutte diverse eppure le sposa tutte quante. Un body che peraltro pesa nel senso... Un po' francese ma comunque... Pesa perché è pieno di paillettes, di pietre, 17 cent...